Grazie per collegarsi a questo evento, grazie per aver deciso di partecipare a questo webinar rivolto alle comunità montane e unioni dei comuni, con il quale Regione Lombardia vuole fornirvi informazioni sul servizio totalmente gratuito di intermediazione dei pagamenti elettronici verso il nodo nazionale dei pagamenti Pago.pia. Io intanto mi presento, sono Emanuela Manfredi, lavoro in area SPA e mi occupo di progetti che Regione Lombardia offre al territorio lombardo per favorire gli enti, le pubbliche amministrazioni locali negli adempimenti normativi e anche, potremmo dire, nei processi di trasformazione digitale. Uno di questi, uno dei servizi di cui mi occupo, è proprio il portale pagamenti di Regione Lombardia, anche conosciuto come MyPay. Quindi il portale, adesso noi lascerò a breve la parola ad un mio collega che di fatto vi fornirà informazioni in Italia e più. Chiedo gentilmente ai partecipanti di cui mi occupano, altrimenti ci sono dei ritorni e non ne riusciamo a comprendere. Quindi lascerò a breve la parola ad un collega, Marco Franzetti, che lavora attivamente anch'esso all'interno di questo progetto, che entrerà più nel dettaglio e vi racconterà e descriverà le caratteristiche di questo servizio per ben comprendere l'opportunità che è messa a disposizione da Regione Lombardia. Abbiamo scelto, visto il numero contenuto anche di enti coinvolti, di utilizzare un Teams che vi consentirà quindi, se volete, alla fine della spiegazione, di intervenire con magari le vostre domande. Quindi io proporrei di seguire la presentazione e poi al termine, se c'è qualche domanda, ve la riservate appunto per il momento finale, cerchiamo di rispondere. Anche se comunque, se non avremo tempo di rispondere a tutte le domande, le potrete comunque inviare, poi vi daremo delle caselle di posta apposite, che non solo per rispondere alle domande, ma per fornirvi poi tutto il supporto necessario per accompagnarvi nei momenti successivi rispetto a questo che è appunto, potremmo dire, informativo. L'evento, dico solo due cose, ancora proprio, potremmo dire così, a corredo, l'evento verrà registrato e quindi potrà poi essere, gli atti verranno poi pubblicati e quindi potrà poi essere rivisto anche in un secondo momento. Quindi ora io lascio la parola a Marco Franzetti per iniziare quindi la spiegazione, entrare nel vivo dell'argomento che vi vogliamo presentare, del servizio che vi vogliamo presentare questa mattina. Grazie mille Emanuela. Sì, io sono Marco Franzetti, lavoro all'interno di RSPA nel team preposto al governo e alla diffusione sul territorio del servizio regionale portale ai pagamenti e sarà mia cura guidarvi lungo questa oretta di presentazione delle caratteristiche, dei vantaggi e delle modalità di adesione al servizio regionale di intermediazione a pago piano. Come si strutturerà questa breve presentazione e quali saranno i principali argomenti discussi? Si fornirà innanzitutto un'introduzione molto breve del contesto normativo all'interno del quale si inserisce il servizio regionale portale ai pagamenti dopodiché verrà fatto un affondo sui vantaggi e sulle caratteristiche della soluzione per poi presentare da un lato l'aspetto amministrativo di adesione al servizio e dall'altro la componente più tecnica di modalità di attivazione e di pagamento dei dovuti sulla piattaforma. Come ultimo argomento si presenteranno le funzionalità di MyPivot che è una suite del portale pagamenti preposta alla riconciliazione dei pagamenti introitati tramite Pago.pia. Come in ogni incontro poi appunto come introdotto dalla collega Emanuela ci sarà un momento finale di domande e risposta qualora ce ne fossero, qualora nel corso della presentazione non avessimo risposto esaustivamente a tutti i vostri dubbi e tutte le vostre curiosità. Quindi il quadro regolatorio il quadro regolatorio all'interno del quale si sviluppa, si articola il servizio regionale portale pagamenti incomincia ad essere tratteggiato nel codice dell'amministrazione digitale che all'articolo 5 disciplina che sostanzialmente le pubbliche amministrazioni siano tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico. Successivamente con il decreto legislativo 179-2012 viene definita, viene individuata l'architettura abilitante le transazioni in formato elettronico. Mi sto ricevendo messaggi che forse non riuscite a vedere le slide che girano. è bloccata la prima slide no, si vedono, ok, si vedono scusatemi quindi l'articolo 15 del decreto legislativo 179-2012 che definisce l'architettura abilitante le transazioni in formato elettronico verso le pubbliche amministrazioni ovvero il nodo di pagamenti Pago.pa che è una sua piattaforma sviluppata da Agid e attualmente gestita proprio dalla società Pago.pa SPA in questo articolo non si definisce la data di entrata in vigore dell'obbligo tanto che questo è stato successivamente prorogato in più di un'occasione fino all'emanazione del DL semplificazioni che fissa una volta per tutte al 28 febbraio 2021 quindi ormai due anni fa il termine dentro il quale tutti i pagamenti alle pubbliche amministrazioni debbano essere effettuati dai prestatori di servizio di pagamento esclusivamente attraverso Pago.pa i prestatori di servizio di pagamento sono banche sostanzialmente banche, poste o istituti di pagamento o altri soggetti che offrono servizi per processare le transazioni di pagamento la normativa inoltre lo vediamo nel punto blu introduce sanzioni in caso di inadempienza rispetto all'utilizzo di Pago.pa prevedendo che il mancato adempimento dell'obbligo rilevi ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei soggetti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare dato il quadro e gli obblighi normativi in capo alle amministrazioni pubbliche in materia di pagamenti digitali Regione Lombardia già nel 2017 avvia l'iter per accreditarsi quale intermediario tecnologico con un duplice obiettivo dal lato di adeguarsi essa stessa alla normativa e dall'altra di supportare con questa azione di governo gli enti del territorio negli adempimenti in materia di pagamenti digitali quindi cosa fa Regione Lombardia? sostanzialmente conduce un'analisi comparativa delle soluzioni che erano disponibili sul mercato così come delle piattaforme che erano già state adottate da altre pubbliche amministrazioni e a valle dell'analisi decide di prendere di adottare a riuso dalla Regione del Veneto la soluzione MyPay soluzione portale pagamenti che sono termini che usiamo in maniera interscambiabile e la mette a disposizione degli enti locali successivamente nel 2019 Regione Lombardia compie un'altra azione di governo volta a centralizzare verso un unico punto gli incassi della pubblica amministrazione Lombarda quindi ampliando il bacino di enti creditori aderenti che era fino a quel momento limitata principalmente agli enti locali imponendo l'utilizzo di MyPay anche per tutte le proprie direzioni generali per gli enti del sistema regionale quindi per intenderci gli enti strumentali come Aria Polis Fil Lombarda e per tutti gli enti sanitari pubblici quindi ricapitolando già nel 2020 MyPay era utilizzata da enti locali regione stessa enti del sistema regionale e tutti gli enti sanitari pubblici già da questa introduzione diciamo emerge già un po' il concetto di versatilità e trasversalità della soluzione che consente agli enti aderenti l'incasso di qualsiasi tipologia di dovuto indipendentemente dalla natura dello stesso e dalle relative modalità di incasso nulla rende più dei numeri come si dice e appunto per dimostrare la comprova dei principi citati poc'anzi di centralizzazione di trasversalità e di attrattività della soluzione abbiamo riportato qualche dato aggiornato a questa mattina quindi recentissimi e ergono che vi sono circa 900 enti che dal 2017 ad oggi enti lombardi hanno aderito a MyPay configurando complessivamente circa 27.500 servizi di incasso differenti e complessivamente ad oggi MyPay ha gestito più di 6 milioni di transazioni per un totale di quasi 1,4 miliardi di euro transati ultimo dato in basso a sinistra è quello degli enti a catalogo ovvero si tratta di enti che hanno scelto un'altra soluzione e il cui portale è stato linkato su MyPay creando appunto un collegamento tra MyPay e la piattaforma dell'ente questo significa che il cittadino su MyPay troverà anche questi 640 enti e che selezionando in uno di essi verrà rediretto alla pagina di pagamento di quell'ente questa funzionalità è stata implementata per concretizzare in MyPay il principio a cui ho accennato prima ovvero quello di punto unico di accesso ai pagamenti della pubblica amministrazione lombarda e infatti se sommiamo gli enti a catalogo più gli enti aderenti vediamo come sul portale al momento sono presenti più di 1500 pubbliche amministrazioni lombarde esploriamo ora alcuni elementi alcuni vantaggi che connotano il servizio e che fanno sì che MyPay abbia nel tempo raggiunto i numeri che ho citato poco fa prima caratteristica sicuramente quella della gratuità nel senso che il servizio è stato messo a disposizione da regione lombardia in una logica di sussidiarietà e non prevede alcun costo né in fase di adesione né in fase di utilizzo del servizio gli unici costi che una pubblica amministrazione dovrà eventualmente sostenere sono quelli connessi all'integrazione dei propri applicativi con MyPay sono costi di sviluppo che andranno corrisposti alle rispettive software house nel caso in cui si volessero configurare dei servizi di incasso tramite appunto integrazione diretta dei propri applicativi con il portale pagamenti ma è un aspetto su cui non mi soffermo ora perché lo riprenderemo più avanti quando esploriamo le modalità di configurazione dei dovuti seconda caratteristica affidabilità nel senso che tutti gli enti aderenti possono fare affidamento su regione lombardia che negli anni ha sviluppato ha maturato un'esperienza consolidata nella gestione degli incassi tramite Pago.pa e che ha sviluppato un rapporto consolidato con Pago.pa spa questo consente oggi a regione lombardia di avere a disposizione un canale di contatto di interlocuzione privilegiato e continuo costante con Pago.pa spa e attraverso questo canale porta puntualmente all'attenzione del livello centrale le esigenze e le istanze sollevate ogni qualvolta dagli enti del territorio facendosi appunto promotrice delle priorità del territorio verso gli organi nazionali. Terza caratteristica quella dell'efficienza inteso come celerità nell'iter di adesione e di configurazione dei servizi ovviamente lo vedremo i tempi dipendono molto dalla modalità di configurazione dei servizi di incasso sul portale pagamenti ma per i dovuti configurati lo vedremo in modalità base il tempo medio di attivazione è di pochi giorni lavorativi quindi questo vuol dire che in meno di una settimana lavorativa un ente è già configurato per gestire tramite il portale pagamenti dei servizi di incasso quarta caratteristica quello dello sviluppo continuo ogni anno vengono sviluppate evolutive vengono introdotte nuove funzionalità con l'obiettivo di migliorare costantemente l'esperienza utente sia lato cittadino sia lato pubblica amministrazione operatore dell'ente con l'obiettivo inoltre di migliorare la performance le capacità prestazionali della piattaforma siamo giusto in questi mesi portando il portale pagamenti da una soluzione un premio in SAD un'architettura cloud per garantire una maggiore efficienza di performance e inoltre anche con l'obiettivo di garantire costante allineamento con i requisiti dettate dalla da Pago PA SPA e dalla propria roadmap evolutiva quinta caratteristica quella del supporto a 360 gradi erogato da team specialistici dedicati in particolare vi è sia un team di professionalità dedicate esclusivamente a supportare gli enti in fase di adesione formale e di utilizzo della piattaforma e vi è un secondo team più tecnico di gestione e di supporto appunto tecnico specialistico sia alle software house degli enti che hanno adottato appunto un applicativo integrato a MyAPA sia per tutte le problematiche più appunto più tecniche verticali sesta e ultima macro caratteristica quella della formazione periodica vengono progettate con cadenza periodica iniziative di comunicazione di promozione di sensibilizzazione attivate anche per il tramite del centro di competenza sui pagamenti digitali che è una struttura di regione lombardia nata in seno ad ISPA e ha come mission quella della promozione e divulgazione sul territorio di best practice monografie vademecum e appunto raccomandazioni su tematiche precise in materia di pagamenti digitali e tutto il materiale formativo viene puntualmente pubblicato su un repositorio documentale che è il sito trasformazione digitale di regione lombardia descritti gli elementi costitutivi della piattaforma approfondiamo ora qual è l'itra amministrativo per aderire al servizio regionale portale pagamenti e per attivare i servizi di incasso sulla piattaforma come aderire al portale pagamenti scusatemi l'iter si può racchiudere in cinque step principali il primo step è quello di adesione formale al servizio regionale in particolare sempre nel repository citato poc'anzi ovvero trasformazione digitale sito di regione lombardia è pubblicato il kit di adesione che contiene la documentazione che gli enti creditori interessati debbano compilare sottoscrivere e trasmettere i due documenti principali sono l'atto di adesione che deve essere deliberato in giunta e sostanzialmente sottoscrivendolo l'ente dichiara di accettare i termini e le condizioni del servizio in termini di gratuità e di allocazione delle responsabilità e nomina all'interno dell'atto di adesione un referente dei pagamenti che è sostanzialmente un punto di contatto una figura di contatto titolata svolgere le attività successive il secondo atto è invece l'informativa ente che è il documento sostanzialmente nel quale l'ente censisce gli operatori che vuole abilitare per operare sul portale pagamenti e definisce i servizi di incasso che vuole attivare sulla piattaforma non mi ci soffermo ora perché c'è la slide successiva che è dedicata una volta trasmessi trasmessa la documentazione di adesione il secondo step prevede che il responsabile dei pagamenti dell'ente acceda al portale delle adesioni che è sostanzialmente la piattaforma messa a disposizione da Pago.pia e seleziona individuo a regione Lombardia quale intermediario tecnologico terza attività sempre da espletare sul portale dell'adesione di Pago.pia è quella di censimento degli IBAN su cui insistono gli incassi da introitare tramite Pago.pia e tramite il portale pagamenti vi è poi una fase di configurazione di abilitazione sia lato Pago.pia sia lato MyPay degli IBAN e dei servizi di incasso che sono stati censiti all'interno dell'informativa ente una volta finalizzate queste attività di configurazione queste attività preliminari l'ente riceverà notifica di avvenuta configurazione e verrà caldeggiato diciamo l'effettuazione di un test di pagamento in ambiente di preesercizio volta a verificare che l'intero l'intero circuito l'intero flusso di pagamento funzioni correttamente una volta ottenuto riscontro positivo potrà avvenire la messa in esercizio dei servizi e quindi i servizi saranno aperti e saranno resi fruibili ai cittadini che quindi potranno procedere con il pagamento dei servizi di incasso configurati questa è in sintesi l'iter per aderire al servizio regionale portale pagamenti dall'analisi che avevamo condotto la totalità o quasi totalità di comunità montane e ognuno di comuni lombarde avevano aderito a Pago PA nel caso in cui ci fosse qualche ente che ancora non avesse aderito formalmente a Pago PA in incipit a queste cinque fasi riportate in questa slide c'è una fase zero una fase preliminare che è sostanzialmente quella di primo accesso al portale dell'adesione di Pago PA quindi l'ente dovrà accedere tramite un delegato al portale di adesione di Pago PA nominare anche lì il referente dei pagamenti e scaricare sottoscrivere e ricaricare la lettera di adesione a Pago PA però appunto ripeto dall'analisi risultava che praticamente tutti gli enti coinvolti avevano già espletato questa attività preliminare appunto ho accennato prima al fatto che il primo step formale prevede la sottoscrizione dell'atto di adesione e dell'informativa ente i documenti come riportato in alto questo slide dovranno essere firmati e trasmessi all'indirizzo ricerca e innovazione chiocciolapec punto regione punto lombardia punto it mettendo in copia l'indirizzo supporto punto mypay area spa che è la casella del team di assistenza a cui facevo riferimento prima e che affianca gli enti negli step di adesione e di utilizzo del servizio regionale l'atto di adesione è più semplice in quanto occorre appunto semplicemente dichiarare l'accettazione delle condizioni del servizio e nominare un referente di pagamenti l'informativa ente invece è relativamente più strutturata si articola come si vede in questo slide in cinque macro sezioni in primo luogo occorrerà riportare anche qui il nominativo del referente di pagamenti già indicato nell'atto di adesione occorrerà poi censire nominare o comunque indicare i nominativi di ulteriori operatori dell'ente che saranno abilitati ad accedere al back office del portale pagamenti per gestire operativamente nella quotidianità i servizi di pagamento configurati occorrerà poi indicare i dovuti che si intendono configurare su MyPay e importante la modalità di configurazione approfondiremo a breve appunto i diversi scenari di attivazione dei servizi quarta e ultima sezione sono dedicati ai dati contabili quindi IBAN e capitoli contabili su cui intruitare e rendicontare gli incassi nel corso dell'esposizione appunto ho ho evidenziato la trasversalità della soluzione che consente appunto di gestire qualsiasi tipologia di incasso per facilitare tuttavia l'iter di attivazione dei servizi di incasso abbiamo racchiuso le diverse modalità in tre macro tipologie che sono sostanzialmente pagamenti spontanei o modalità base pagamenti avvisati o modalità per flussi e pagamenti gestiti con applicativi terzi o modalità iniziato presso ente le tre slide successive esplodono e nucleano in ciascuna una diversa modalità per cui non mi soffermo in questa slide basti in questo momento solamente sapere che ciascuna modalità presenta dei vantaggi e degli svantaggi e che meglio diciamo dei limiti più che degli svantaggi e che comportano procedure di configurazioni costi ed esperienze utenti esperienze utenti differenti pertanto la scelta di una o dell'altra macrotipologia è dipendente soprattutto dalla natura del dovuto stesso e dall'attuale modalità di gestione di quel dovuto vediamo ora una per una le tre modalità con quella che sono le esperienze utenti i vantaggi e magari alcuni rovesci della medaglia primo scenario di configurazione è quello appunto base anche detto dovuti spontanei si tratta quindi di incassi per i quali non vi è una posizione debitoria preaccertata e in cui i pagamenti avvengono su iniziativa per virgolette del cittadino l'esempio classico è la donazione oppure il pagamento di una tassa per l'iscrizione ad una procedura concorsuale l'iter di configurazione è molto rapido è immediato sostanzialmente nel senso che l'ente creditore richiede la configurazione del dovuto e può definire i campi che il cittadino in fase di pagamento dovrà compilare come ad esempio nome cognome o denominazione sociale codice fiscale o partita IVA causale importo e altre informazioni dipendenti dalle esigenze dell'ente stesso una volta configurato il cittadino dal portale pagamenti e nello specifico dalla pagina dedicata a quell'ente creditore perché ogni ente creditore sul portale pagamenti ha una pagina dedicata seleziona il dovuto spontaneo per il quale intende effettuare un pagamento compila i campi richiesti e successivamente potrà scegliere se finalizzare il pagamento online o in alternativa stampare un avviso di pagamento e pagarlo successivamente online ad esempio tramite il portale pagamenti o offline ad esempio ricandosi in posta dal tabaccaio presso alcune catene di supermercato o presso tutti i punti abilitati se paga online subito al termine del pagamento il cittadino riceve via mail una ricevuta telematica e indipendentemente dalla modalità di pagamento accedendo alla propria area autenticata il cittadino avrà a disposizione un archivio con le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati quali sono gli aspetti qualificanti di questa modalità sicuramente la gratuità nella configurazione ovvero non essendo previste integrazioni con gli applicativi dell'ente in quanto tutta la configurazione viene espletata sul portale pagamenti non sono previsti costi di sviluppo da sostenere nei confronti delle software house degli enti e inoltre appunto come detto il tempo di attivazione è di pochi giorni lavorativi il potenziale rovescio della medaglia è che il soggetto pagatore magari in fase di compilazione dei campi è distratto o digita velocemente quindi potrebbe commettere degli errori in fase di inserimento di alcune informazioni come ad esempio l'importo anche se lo preannuncia è possibile vincolare l'importo quindi ad esempio per la tassa di concorso molte pubbliche amministrazioni vincolano a tendenzialmente 10 euro la tassa di concorso cosicché questo dato non debba essere digitato manualmente dal cittadino ed evitando così la possibilità o mitigando la possibilità di di errore secondo scenario è quello della modalità per flussi quindi questa modalità prevede il caricamento su MyPay di posizioni debitorie l'upload di posizioni debitorie o appunto di flussi debitori da qui il nome modalità per flussi può avvenire o manualmente tramite caricamento sul backoffice nel backoffice di MyPay di un file csv con un tracciato predeterminato e che vi mandiamo noi oppure può avvenire questo caricamento in maniera automatica tramite integrazione diretta del gestionale dell'ente con il portale pagamenti comunque indipendentemente dalla modalità di caricamento delle posizioni debitorie una volta finalizzata questa attività da parte dell'operatore dell'ente creditore quest'ultimo potrà scaricare dal backoffice una cartella zip con il pdf degli avvisi di pagamento pago.pa generati e potrà trasmettere questi documenti ai soggetti debitori tramite i canali preposti che possono essere ad esempio post-ordineare quindi postalizzazione mail pack o altri canali utilizzati dagli enti in alternativa o meglio parallelamente l'utente potrà autenticarsi su mypay accedendo con le speed c o cns e nell'area personale troverà l'archivio delle posizioni debitorie con la lista l'elenco dei pagamenti a suo carico comunque l'elenco dei pagamenti da effettuare il cittadino anche in questo caso come nel primo scenario potrà o procedere con il pagamento online aggiungendo quella posizione debitoria al carrello e procedendo con il pagamento oppure potrà stamparsi l'avviso di pagamento e pagarlo successivamente o offline i vantaggi di questo scenario sono sicuramente l'eliminazione degli errori di digitazione manuale da parte dei cittadini quanto tutte le informazioni vengono inserite dall'operatore dell'ente e il secondo vantaggio è quello collegato alla possibilità di automatizzare il processo di generazione delle posizioni debitorie eliminando quindi la manualità e la ripetitività delle operazioni terza e ultima modalità è quella iniziato presso ente cosa vuol dire iniziato presso ente vuol dire che come funziona il flusso sostanzialmente l'ente creditore dispone di un proprio portale che è il cui front end è integrato al portale pagamenti mypay quindi il cittadino non si reca in prima istanza sul portale pagamenti ma direttamente sul portale dell'ente avvia il pagamento e il portale dell'ente essendo integrato con mypay invia trasmette a mypay i dati necessari per processare il pagamento mypay in questo caso fa solamente da da ponte tra il portale dell'ente e la piattaforma pago.pa e invia appunto alla piattaforma centrale pago.pa i dati di pagamento imputati e generati sul sito dell'ente dal cittadino il dialogo tra l'applicazione web dell'ente e mypay avviene attraverso web service come riportato qui e quindi è necessario adeguare e integrare il proprio sito istituzionale per permettere l'integrazione tra i due sistemi il principale vantaggio è quello sicuramente di garantire al cittadino ai propri cittadini l'utilizzo di interfacce proprie dell'ente a cui magari è già abituato per accedere ad altri servizi ovviamente anche qui i tempi si dilatano perché è necessario sostenere delle attività di sviluppo e quindi ci saranno anche dei costi da sostenere per l'integrazione molto velocemente vediamo come penultimo tema come si presenta Mypay e quali sono le sue componenti principali dal punto di vista dell'interfaccia come praticamente tutti i portali Mypay si articola in due principali componenti che sono front office e back office front office è dedicato principalmente all'operatività del cittadino cosa può fare il cittadino dal front office il cittadino può ricercare un determinato ente tramite la stringa di ricerca dell'ente scusate la ripetizione può selezionare un determinato dovuto spontaneo quindi tra quelli configurati in modalità base compilare i campi e finalizzare il pagamento in alternativa se ha a disposizione se è tra le mani un avviso di pagamento pago PA può inserire tramite l'apposita sezione il proprio codice fiscale partita EVA e il codice UV che è un codice univoco associato a ciascun avviso di pagamento pago PA per pagare quel determinato avviso può inoltre ricercare una ricevuta telematica relativa ad un pagamento effettuato e infine può accedere all'area autenticata e consultare le posizioni debitori a lui o a lei intestate tramite associazione per codice fiscale che è sostanzialmente l'informazione che consente di associare una posizione debitoria ad un determinato cittadino e sempre nell'area autenticata può visualizzare i pagamenti avviati e quelli finalizzati il back office invece la seconda componente è dedicata principalmente all'operatività degli enti creditori aderenti per renderli quanto più possibile autonomi nella gestione dei propri servizi di incasso appunto l'accesso è consentito è limitato solo agli operatori degli enti che sono stati censiti all'interno dell'informativa ente trasmessa e le principali funzionalità sono quelle relative alla creazione modifica o annullamento di posizioni debitorie così come quella di creazione stampa creazione scusate di download di avvisi di pagamento pago PA da notificare ai soggetti pagatori debitori così come la possibilità di modificare annullare dei flussi debitori precedentemente caricati tramite la modalità per flusso MyPay è stato concepito per soddisfare le esigenze degli enti creditori non solo relativamente alla fase di pagamento ma in ottica 360 gradi anche in fase di riconciliazione dei pagamenti introitati a tal proposito MyPay prevede anche la suite MyPivot che è sostanzialmente un servizio aggiuntivo anch'essi gratuito e parte integrante del portale pagamenti che ha come finalità quella di supportare l'operatività dell'ente nella fase di riconciliazione dei pagamenti dei pagamenti sostanzialmente cosa fa MyPivot MyPivot consente agli enti creditori aderenti di riconciliare gli incassi introitati e il meccanismo che sottende a questo processo è un incrocio di tre tipologie di informazioni che MyPay effettua e consentendo di avere una vista integrata consentendo all'operatore dell'ente di avere una vista integrata dei pagamenti che sono stati ricevuti quali sono a grandi linee queste tre tipologie di dati di informazione la prima sono le informazioni di rendicontazione dell'incassato del giorno inviate da parte di inviate dalla piattaforma Pago.pia sostanzialmente ciascun prestatore di servizio di pagamento manda tendenzialmente nell'arco entro 24 ore successive a Pago.pia un flusso nel quale gli notifica che un determinato ente su quel determinato IBAN ha incassato un determinato importo non ci sono tuttavia le informazioni del singolo pagatore diciamo ma solo a livello di codice avviso quindi di EUV e di importi quindi diciamo queste le informazioni sulle singole transazioni che è appunto un dato che nei flussi di rendicontazione non non sono presenti vengono pescate dalle informazioni di pagamento contenute nelle ricevute telematiche che MyPivot acquisisce da MyPay che è la seconda tipologia di informazione quella appunto di pagamento però mentre la prima informazione di rendicontazione vengono inviate da Pago.pia le informazioni di pagamento vengono acquisite da MyPay terza tipologia di informazioni sono le informazioni di tesoreria quindi giornali di cassa caricati dagli enti e che contengono i riversamenti in tesoreria appunto in questo modo tramite l'incrocio di queste tre informazioni è possibile mettere in relazione i diversi dati ricostruire lo storico acquisire una panoramica integrata dei pagamenti ricevuti e riconciliare i riversamenti quella che vedete rappresentata è la home page di MyPivot in alto vediamo nel banner come vi siano quattro principali funzionalità che sono visualizzazione flussi accertamento e statistiche li vediamo molto velocemente poi in quanto è impossibile nell'arco di un'ora trattare in maniera esaustiva ed approfondita l'intero portafoglio di funzionalità di MyPivot in quanto meriterebbe una sessione dedicata e comunque nel caso fossero interessati possiamo sicuramente approfondirlo poi in separata sede oltre al fatto che sul sito trasformazioni digitale è già presente ampia documentazione sia in formato di videoregistrazione sia di manuale utente quindi sostanzialmente esplorandole una per una le varie funzionalità visualizzazione permette la rappresentazione la visualizzazione dei flussi provenienti da Pago.pa e da MyPay la visualizzazione dei pagamenti riconciliati correttamente così come casistiche di anomalia o di incongruenze la consultazione delle ricevute telematiche acquisite dal sistema e dei giornali di cassa caricati dal lente flussi consente l'import e l'export delle ricevute telematiche anche qui dei flussi di rendicontazione e dei giornali di cassa la funzionalità accertamento consente di creare degli accertamenti contabili così come successivamente di aggiornarli consultarli e chiuderli e inoltre di gestire i capitoli contabili infine statistiche consente di disporre di cruscotti statistici dinamici e con dati aggregabili in funzione di differenti parametri che possono essere quello temporale quello di uffici quello di tipologia di servizio d'incasso quello di capitolo contabile e quelli di accertamenti grazie mille la presentazione è giunta al termine vi ringraziamo per l'attenzione e naturalmente restiamo a completa disposizione per qualsiasi curiosità o chiarimento non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda domanda in chat se volete affrontarla nel caso in cui lente necessità grazie riccardo nel caso in cui lente necessità sia di pagamenti spontanei sia di caricamento flussi quale modalità si deve scegliere tra base e flussi noi suggeriamo sempre di effettuare un'analisi e una valutazione di qual è l'attuale modalità di gestione e così da definire qual è la modalità di configurazione ideale diciamo che appunto la regola generale che poi è da declinare nello specifico servizio però la regola generale è che se non vi è una posizione debitoria preaccertata e quindi se il pagamento avviene in linea generale come iniziativa dell'ente si adotta tendenzialmente la modalità spontanea se invece vi sono delle posizioni debitorie preaccertate quindi un dovuto nasce in pancia all'ente creditore allora è diciamo più più ideale lo scenario per flussi è comunque possibile configurare un dovuto spontaneo e poi dal back office generare degli avvisi di pagamento che possono essere notificati intercettarini in caso di necessità volevo solo dire che aggiungere che ovviamente voi potete sfruttare tutte quante le possibili configurazioni dovute sul portale pagamenti quindi essenzialmente venendo incontro e potendo quindi configurare quasi tutti i vostri incassi e potete se avete già un partner tecnologico affiancare anche regione lombardia perché vi è la possibilità comunque di essere plurintermediati questo probabilmente lo sapete l'importante è che un singolo dovuto venga intermediato verso il nodo donazione dei pagamenti da un solo partner intermediario però potete se avete già per esempio un partner affiancare regione lombardia per completare il processo di digitalizzazione dei vostri dei vostri pagamenti c'è un'altra domanda Marco in chat non so se le riesci a vederle a leggerle vedo ancora solo la prima ti leggo io anche io vedo solo anche io vedo la prima se la puoi leggere tu Riccardo MyPivot potrebbe gestire l'incassato da ripartire poi su più enti esempio servizi associati come poter collegare l'informazione all'accertamento sul gestionale di contabilità quindi sono due due quesiti sul gestionale di contabilità quindi del singolo ente sì 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 poi eventualmente Marco Cacciotto può anche collegarsi via audio e diciamo interagire in maniera più diretta sì sì infatti abbiamo scelto proprio la modalità del Teams perché visto il numero esiguo di invitati ci sembrava anche che fornisse la possibilità di poter interagire più direttamente prego Marco prego Marco sottoponga pure il quesito via audio sì buongiorno scusate ho attivato adesso il microfono la domanda appunto era se mai Pivot potrebbe gestire l'incassato di la parte di più enti esempio servizi associati non so per esempio noi abbiamo un'associazione di polizia locale che incassa le sanzioni sul territorio che poi vengono ripartite tra i vari enti però la nostra esigenza era quella poi di andare a fare la a collegare l'informazione all'accertamento della contabilità sul gestionale della contabilità dei vari enti ma adesso come lo gestite questo processo? adesso è manuale praticamente arriva l'informazione all'ente capofila e poi manualmente vanno a fare la ripartizione e gestire l'accertamento ma allora intanto visto che ci sono poi un gruppo di persone che oggi non sono presenti che gestiscono e sono proprio potremmo dire più formate sui processi anche di quelli che sta descrivendo lei no? quindi di reconciliazione regolarizzazione e collegamento anche agli accertamenti se vuole possiamo anche posticipare ad un altro momento questo approfondimento comunque in linea generale penso che se l'ente che incassa c'è il soggetto che incassa è uno incassa per tutti MyPivot cosa fa? fornisce sicuramente tutti i dettagli per sapere avere le informazioni sul versante e quindi consente anche in caso di riversamenti cumulativi da parte dei prestatori di servizio di pagamento di poterli spacchettare e arrivare fino al dettaglio e individuare il singolo il singolo versamento e anche i dati anagrafici del versante da qua poi a poter fare l'aggancio con i dati potremmo dire di accertamento contabile io non penso che MyPivot sia in grado di farlo perché non è il suo mestiere essenzialmente non fa quello e infatti anche in regione Lombardia abbiamo poi sviluppato moduli ad hoc per poter poi dopo dalla fase di riconciliazione arrivare poi a fasi successive però come vi dicevo possiamo sicuramente anche fare dei momenti di approfondimento in cui meglio capire anche se possiamo darvi supporto e in che modo rispetto a questi processi il nostro obiettivo è anche questo non solo fornire un servizio ma anche poi analizzare i casi specifici che si presentano di volta in volta sul territorio e anche poi cercare insieme di organizzare delle soluzioni volentieri se si può approfondire in un secondo momento lei ha visto che c'è allora intanto può scrivermi direttamente che io sono emanuela.manfredi emanuela.manfredi chiocciola ariaspa.it chiunque voglia avere un approfondimento può scrivermi direttamente e se qualcuno lo può mettere in chat forse le uccio lo sta scrivendo in chat il mio indiretse mail e organizziamo dei momenti di approfondimento senza nessun problema grazie allora poi c'è la modalità base gestisce anche caricamenti di flussi avvisitari allora il signor Antonio che può anche qua intervenire liberamente allora la la modalità base è di solito lo spontaneo poi vedrete che queste modalità che fanno parte un po' delle linee guida del progetto Pago.pa potremmo dire delle iniziali linee guida poi pian pianino ora il progetto le sta facendo sparire noi oggi per comodità anche operativa le abbiamo lasciate la modalità base è quella modalità che di fatto è quella spontanea cioè quella della posizione debitoria che non esiste ma che il cittadino spontaneamente decide di pagare qualcosa il classico esempio potrebbe essere quello della licenza no? licenza caccia e pesca dove il cittadino paga ma non è obbligato a farlo perché l'anno dopo può decidere di non pagarle più perché non vuole più appunto la licenza quindi di solito invece quando si parla di posizioni debitorie tipo latari allora lì si preferisce fare visto che sono posizioni debitorie preesistenti note all'ente gestite appunto al termine gestionali dell'ente lì si fa un precaricamento cosa vuol dire un precaricamento? vuol dire che si può fare seguendo dei tracciati che noi vediamo l'upload di un file con le informazioni utili da generare la posizione di vittoria ovvero per chi vuole farlo si possono fare anche delle integrazioni via web service per facilitare il processo automatico di passaggio delle informazioni dai gestionali a MyPay e poi una volta precaricate si possono generare gli avvisi di pagamento che possono essere ovviamente poi inviati per i canali che voi magari già utilizzate al debitore che quindi si vedrà recapitare un avviso di pagamento secondo il template e layout Pago.pia che ormai conosciamo perché arrivano tutti così meno male anche quello anche quello delle utenze idriche o luce di casa e potrà poi quindi pagarlo attraverso i canali che più che più gli aggradano perché ormai sono tantissimi canali attraverso i quali si può pagare gli avvisi Pago.pia quindi non so se ho risposto o se c'è ancora qualche dubbio in linea in linea generale visto che l'obiettivo di questo webinar è darvi ulteriori informazioni sul servizio di regione Lombardia per anche supportarvi nel processo verso quello che viene definito il full Pago.pia nel senso che ogni ente dovrebbe integrare verso il nodo dei pagamenti tutti i propri incassi quindi sia che voi abbiate già un patron intermediario oppure che non l'abbiate questa è un'opportunità del tutto gratuita abbiamo detto all'inizio sia in fase iniziale poi nel tempo è gratuito non solo il servizio ma anche tutti i servizi a corredo dalla formazione al supporto tecnico specialistico alla configurazione dei dovuti che possono essere configurati e dismessi configurati e dismessi nel senso che è un processo sempre vivo per cui voi potete di volta in volta notificare una serie dovuti da configurare una certa modalità decidere poi di cambiare cioè è un processo che rimane attivo nel tempo e che vi porterà poi a interagire con le altre strutture di assistenza e supporto non so se ci sono altre domande vedo che Riccardo sta a scrivere ah scusi un'informazione i tipi di debito che possono essere appunto gestiti da MyPay vengono poi anche ribaltati su quello che è l'appio quindi quando emetto una posizione debitoria ho in automatico anche l'avviso su appio e l'altro posito allora prego prego il sistema consente di farlo per il momento per il momento stiamo stiamo valutando se farlo o meno nel senso che abbiamo attivato questa funzionalità per l'incassi di regione Lombardia per il territorio stiamo facendo delle valutazioni considerazione anche della numerosità degli enti consideri che siamo sicuramente il più grande intermediare sul territorio nazionale almeno dal punto di vista di numero di enti che noi intermediamo verso il nodo nazionale dei pagamenti quindi per il momento per il momento no ok l'altro quesito era se è previsto in futuro la prevista in futuro l'integrazione con la piattaforma notifiche digitali in questo momento no poi magari Emanuela quando finiamo gli interventi le richieste dei colleghi magari dico due cose io in chiusura anche di questo tipo sì anche magari anche su questi argomenti specifici che giustamente chiedono i colleghi sono stati messi sul sul campo dai colleghi no aspettiamo magari se c'è ancora qualcosa di più tecnico di procedurale sul tema comunque in ogni caso come diceva anche la collega potete poi diciamo coinvolgere il team di Aria ma anche me personalmente Riccardo Scuteri e il collega Leucio Maturo che siamo i due colleghi di Regione Lombardia che seguono direttamente l'iniziativa dei pagamenti elettronici quindi MyPay interconnessa Pago.pa per avere informazioni generali sia diciamo rispetto a quello che ha presentato Marco Franzetti questa mattina che ringrazio sia anche rispetto a scenari successivi come come ad esempio si parlava prima di appio e piattaforma notifiche avvisi PNRR e quant'altro in particolare questi tre temi Emanuele ha detto bene che diciamo la piattaforma il portale dei pagamenti a livello tecnologico applicativo permette ovviamente l'interconnessione con appio quindi se un dovuto è caricato sul sistema può essere notificato all'utente che ha appio anche tramite app e allora diciamo per essere chiari noi questo servizio lo abbiamo in questa fase in via sperimentale attivato per tre comuni lombardi proprio per capire un po' sia lato loro come funziona la notifica PIO per dovuti che questi comuni hanno configurato su MyPay e sia per capire anche lato regione Lombardia l'effort l'impegno a livello infrastrutturale per diciamo eventualmente in una fase successiva implementare questo servizio per i quasi 900 aderenti che abbiamo in un boarding sulla piattaforma MyPay capite che una cosa è tre vediamo e una cosa è 900 però diciamo ci siamo portati avanti a livello tecnologico applicativo la funzionalità è diciamo è prevista per quanto riguarda piattaforma notifiche al momento non non partecipiamo come regione a questa iniziativa a livello centrale però stiamo sempre aggiornati sulle evolutive che giorno per giorno sono in essere diceva anche prima Emanuela che vi abbiamo presentato tre scenari applicativi di integrazione con il portale pagamenti però già le nuove linee guida di Pago.pa vanno in una direzione leggermente diciamo standardizzata rispetto a questa a questa modalità a queste tre modalità che vi abbiamo presentato niente teneteci sempre presente su eventuali richieste di chiarimento o delucidazioni e come come detto anticipatamente il l'interconnessione al nodo dei pagamenti Pago.pa è un obbligo non è una una cosa facoltativa quindi tutti i pagamenti pubblici devono essere interconnessi a Pago.pa ritengo che andare su un servizio collaudato strutturato integrato e gratuito come quello regionale è un'opportunità sicuramente da prendere in considerazione io non avrei nient'altro se ci sono ulteriori richieste che possiamo gestire in questo momento bene altrimenti le rimanderei in un secondo momento Manuela non so se abbiamo detto tutto sì noi siamo a disposizione per supportarvi in tutte le fasi insomma quindi il mio indirizzo email è in chat anche quello dei colleghi Riccardo e Liuccio e quindi rimaniamo a vostra completa disposizione ok allora buona proseguimento a tutti grazie vi ringraziamo buona giornata arrivederci arrivederci buona giornata grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.